Riccardo, stretti, concisi, rapidi, dichiaralo, dichiaralo a SnayTube che si è innamorato perdutamente di me Non posso fare neanche una singola mezz'ora di riposito senza pensare a lei La sogno sugli alberi come un casco di banane, sottoterra come una carota Come le pucci delle scimmie Una cascata che scende in onda una laguna L'abbiamo capito, basta Abbiamo un sacco di immagini tutte di spudorata bellezza che mi riportano sempre a micola Prima o poi consumeremo Non consumeremo mai perché insomma cosa vuoi, siamo troppo per consumarci Beh ma in amicizia Senti, così giusto, for fun Eh for fun For fun sì No Ricchi, a parte gli scherzi, allora pausa, prima pausa della finale della SnayPoker Cup Che si sono appena riseduti ai nostri tavoli Fatti i primi due livelli Primi due livelli, come sta andando? Ne sono già usciti sette che sono tanti considerando lo stack e i primi livelli Secondo me sono tavoli agguerriti, sono dei giocatori veramente bravi Infatti spero che poi chi vincerà sia un ulteriore stimolo per la nostra squadra Ce n'è uno che ti piace particolarmente Ricchi? Non per amicizia, cioè non ci mettere l'affetto nel mezzo No no, ho detto in tempi non sospetti ma forse è già uscito che il mio favorito tecnico era Denis Agostini Non lo vedo già più seduto al tavolo Mille creme in arte Mille creme, esatto E poi spero che faccia un figurone il mio capitano, Dino Breck nazionale Che comunque lui non molla niente neanche nelle finali SNAI Quindi lo vedo che proprio con le unghie e con i denti si arrempicherà e ci regalerà un tavolo finale domani Vamos capitano Per quanto riguarda l'ACCHI non vincerà il free roll anche quest'anno nonostante ti sia portato il trenino di Allokitti C'ho tutto, trattorino di Allokitti, poi il rimorchio sponsorizzato SNAI eccetera Solo quello di Allokitti di rimorchio, per il resto Io rimorchio solo con Allokitti 1, 2, 3, vamos!